Il territorio comunale si intendo vincoli conformativi, quei vincoli inquadrabili nella zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, si da incidere su una generalità di beni nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono ed in ragione delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche o del rapporto per lo più spaziale con un'opera pubblica. Sono invece espropriativi i vincoli incidenti su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un'opera pubblica, localizzazione che non può coesistere con la proprietà privata. Si ricorda che solo i vincoli espropriativi soggiacciono all'alternativa fra indennizzo o durata predefinita.